Cari amici tifosi appassionati di calcio e non solo, sono qui per commentare un Barcellona-Juventus che ha visto la Juve vincere a Barcellona per 0-3, devo dire che è stata una partita molto fatta bene dai bianconeri, però c'è anche da dire che ci sono stati concessi dei rigori e Cristiano Ronaldo, il Barcellona dal canto suo non mi è parte il Barcellona di tanti anni fa, Messi era praticamente spento, tanti altri giocatori non si sono visti giocare, quindi non direi tutti i meriti alla compagine bianconera che per carità ha fatto la sua onesta partita, anzi su questo complimenti a Pirlo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi e dire che il Barcellona è molto molto peggiorato e quindi non bisogna dare tutti i meriti a questa Juve cosa che invece i media tendono a fare, però è andata bene così, è bene che le squadre italiane vadano avanti e su questo non c'è nessunissimo tipo di problema per quanto mi riguarda, però bisogna essere un po' più onesti, prima crucifiggiamo la Juve e poi se vince una partita li facciamo santi, no, non va bene, questo è quello che io penso, un abbraccio e al prossimo video.